E' una lunga campagna elettorale quella di Messina, iniziata con le regionali che a quanto pare avranno una coda giudiziaria e amministrativa per via dei modelli che riguardano la legge Severino non presentati. Una campagna elettorale che proseguirà con le politiche di marzo e si concluderà a maggio con le amministrative. Partiamo con le candidature certe o quasi certe. Cateno De Luca con il suo movimento Sicilia Vera, a meno di sorprese, sarà candidato. Lui e il suo avvocato Taormina hanno scritto alla presidente della commissione antimafia, Rosi Bindi, contestando una presunta impresentabilità. Poi c'è Giuseppe Trischitta, capogruppo di Forza Italia Comune, che proprio a Malalingua ha lanciato il suo movimento Messina Splendida, innescando una polemica fortissima con il gruppo genovese dal quale ha preso le distanze. Ma sullo sfondo si profila una candidatura sorpresa che è quella di Beppe Picciolo o di uno del suo entourage. Picciolo è ormai parte integrante del PD ed ha ottenuto un importante incarico ministeriale al Ministero della Sanità che nessuno, nemmeno lui, conosce nel dettaglio. Il segretario del PD, Starvaggi, preme affinché si istituisca un tavolo per trovare una convergenza con le altre forze del centrosinistra, tavolo che nessuno, nella realtà, vuole istituire. C'è poi a Corinti, sindaco uscente, dato per sfavorito, che potrebbe invece rappresentare ancora una volta la sorpresa. Attenzione al centrosinistra, che partirebbe già diviso in partenza il presidente uscente dell'Assemblea regionale, Giovanni Ardizzone, avrebbe deciso di scendere in campo guardando alla società civile, ma il suo elettorato sarà costituito sicuramente dal voto cattolico e di centrosinistra. Certo, prima di dare l'annuncio ufficiale ci sono le politiche dove Giampiero D'Alia, suo leader, c'è composto al sole nel PD. Attesa infine per il nome che probabilmente attraverso la rete sceglieranno i 5 Stelle che a Messina possono contare su ben due deputati regionali, Valentina Zafarana e Antonio De Luca.